Negativo, seconda sconfitta consecutiva, la quarta partita senza successo per il Frosinone. Qual è lo stato d'animo della squadra? Penso che noi dobbiamo soltanto pensare a lavorare e a rimettere tutto a posto. Le qualità ce le abbiamo, dobbiamo soltanto credere in noi stessi ed essere più cattivi su ogni palla e le vittorie arriveranno. Che partire sono? Cosa è mancato? Oggi è mancato secondo me cattiveria negli ultimi metri, ma penso che ogni tanto dobbiamo essere più attenti in determinate situazioni.